Benvenuti nel mondo degli orologi anonimo. Anonimo è uno dei brand più riconosciuti al mondo per la produzione di orologi subacquei di alta qualità. Fondata nel 1997 a Firenze, la casa produttrice si è guadagnata una posizione di rilievo grazie all'innovativo sistema di bloccaggio della corona a vite e pulsanti completamente resistenti all'acqua. Questa tecnologia consente agli orologi anonimo di resistere a profondità estreme, impermeabili fino a oltre 1000 metri, con il modello, professionale, testato e certificato a una profondità di 2000 metri. Il brand anonimo è stato il primo a utilizzare il bronzo nella produzione degli orologi subacquei, dando vita ad una lega unica che, con il passare del tempo, assume una patina naturale che rende ogni orologio un pezzo unico e inimitabile. Inoltre, la linea militare presenta una corona con un meccanismo brevettato situato tra le ansie a ore 12, che garantisce una perfetta impermeabilità, anche in condizioni estreme. Il design unico, elegante e semplice, è la filosofia che guida i fondatori del marchio, insieme alla comprovata robustezza e alla perfetta leggibilità del quadrante. Gli indici posizionati triangolarmente a ore 4, 8, 12, fanno riferimento alla lettera A di anonimo, rendendo ogni orologio unico nel suo genere. La collezione Epurato è perfetta per l'uomo moderno che cerca un orologio elegante e raffinato. Il design a forma di cuscino, ispirato all'eleganza italiana, conquista a prima vista, ma è l'attenzione ai dettagli a fare la differenza. I cinturini in pelle fatti a mano in Italia sono la ciliegina sulla torta di questo brand unico e distintivo. Scegli anonimo per il tuo prossimo orologio subacqueo e sarai sicuro di avere tra le tue mani un prodotto di altissima qualità, con un design distintivo e inimitabile.